Ciao, sono Ivan Bianco, sono circa 20 anni, manca qualche mese e poi saranno 20 anni che mi occupo di network marketing. Ho avuto dei momenti molto importanti nella mia attività, ho avuto momenti di difficoltà, soprattutto all'inizio, dove non ho mai dubitato di farcela, però ho avuto dei momenti dove veramente trovavo delle grandi difficoltà per riuscire ad affermarmi. Non ho mai però dubitato di realizzare perché sapevo che avendo una grande disponibilità di imparare e una grande volontà sapevo che ce l'avrei fatta. E ti voglio raccontare di una delle soddisfazioni che mi sono tolto una volta, perché forse è successo anche a te di avere a che fare con alcuni bancari un po' arroganti, un po' maleducati o un po' supponenti. Bene, ricordo un particolare mese di dicembre, un mese di dicembre, avevo realizzato il mio migliore mese nel network marketing e quindi avevo ricevuto una cifra straordinaria per il mese di dicembre. E ti parlo di 437 milioni di lire in un mese, una cosa straordinaria. Allora io, questo è il mese di gennaio, vado in banca presso la filiale dove appunto avevo uno dei miei conti e chiedo del cassiere, c'era proprio quel cassiere che normalmente è piuttosto snob. E gli dico buongiorno, salve sono Ivan Bianco e sono venuto a vedere se mi hanno pagato il mese. E questa persona comincia a dare un'occhiata, insomma, compiuta, dice sì, controlla e comincia a fare delle facce stranissime. Dico c'è qualche problema? E dice no ma un attimo solo, ha detto Ivan Bianco, sì, scusi un attimo, questo ricontrolla e gli ho detto scusi c'è qualche problema? Dice no, ci deve essere un errore e dico mi dica, mi dica perché magari la posso aiutare. Dico quant'è? Ma no, ma no, dice questi figuri qua, dice 437, ah 437, ah bene, no perché pensavo 418, bene, ah meglio, allora si vede che è andato su dell'altro, bene, benissimo, sì sì è quello, deve essere il mio mese, sì. E chiaramente il bancario mi guarda e dice scusi? Sì ho detto il mio mese, scusi? Il mio mese, mi hanno pagato il mese? Ma, e dico senta, guarda l'azienda, gli dico il mio mese, lui controlla, dice sì, scusi ma un mese? Sì questo un mese? E questo mi guarda e mi dice ma è matto? Io ho detto io sono matto, sarà matto lei che sta qua per un milione e mezzo al mese? Ecco, questa è una, e lui non ha più parlato per diverso tempo, ha fatto l'operazione e quant'altro, è una delle situazioni, delle soddisfazioni che mi sono tolto semplicemente senza dire niente, semplicemente così ricordando alle persone che non sono i soldi che maneggi che ti fanno qualcosa di grande è quello che sei dentro che può fare di te qualcosa di grande e allora quegli soldi che avrai tra le mani non saranno esattamente sempre soldi di altri ma ti capiterà di averne anche di tuoi. Credi fortemente in te stesso, credi fortemente nella crescita personale e credi assolutamente nel network marketing è il modo migliore che esista per fare soldi oggi. Ciao